I conflitti con la famiglia di origine, con i tuoi genitori, sono un tema dibattutissimo nel mondo della psicologia. Ci sono punti di vista completamente diversi. Completamente. Ecco, io ti invito a vedere questa cosa da un punto di vista che penso sia alternativo. Immagina di avere una difficoltà con un tuo genitore, il padre, la madre, un fratello, chi vuoi, ok? E immagina di avere un problema per cui hai bisogno che qualcuno ti stia accanto in quel momento, o di appoggiarti su qualcuno. Ecco, magari ti senti costretto a chiamarlo, perché chi dovrei chiamare se non queste persone? Ho chiamato tutti, non ho altri, ho loro, chiamo loro. Poi succede che quella persona si comporta esattamente come è sempre stata, esattamente come è. Come ti saresti anche potuto immaginare. Ha fatto le stesse cose che fa sempre. È stata sgradevole. E nel suo essere sgradevole, io mi sono sentito nuovamente vittima. Vittima di un comportamento che io reputo ingiusto. Non è giusto che tu ti comporti in questa maniera con me. Potresti anche accettarmi così come sono e darmi affetto e basta. E questo renderebbe la nostra relazione migliore. Però non va così. Tu non riesci a mettere da parte te stesso e che fai comunque sciupi tutto, rovini tutto, giudicandomi, trattandomi in un certo modo che a me non piace, eccetera, eccetera. Ecco, adesso, in realtà eri costretto o costretta a rivolgerti a quella persona? No, perché potevi non chiamarla, ok? O quantomeno potevi non chiedergli quel tipo di aiuto, o potevi non entrare in certi argomenti. Potevi non fare tantissime cose. Perché le hai fatte? Perché in realtà non eri costretta o costretto. Nella realtà dei fatti non accetti che quella persona non sia come tu invece vorresti, come tu avresti bisogno che fosse. Ma non lo è. E quella vocina dentro, quella vocina nella testa, te lo diceva che quella persona avrebbe detto quelle parole, sarebbe tornata su quegli argomenti, avrebbe avuto quelle stesse reazioni, quegli stessi comportamenti di sempre. E tu che hai fatto? Tu l'hai chiamata allo stesso. Per quale motivo? Perché speravi che finalmente, finalmente ti avrebbe potuto dare quello di cui hai sempre avuto bisogno, per molto tempo hai desiderato. Anziché assumerti la responsabilità che quella persona non è come tu vuoi. e quindi devi fare a meno di ciò che tu vorresti da lei.